Per Malta la politica sociale è molto importante, l'anno scorso nel primo semestre del 2017 Malta aveva la presidenza dell'Unione Europea e la politica sociale era una delle priorità maltesi anche nell'Unione Europea. Noi a Malta fochiamo molto sul concetto della famiglia, da famiglia molto importante, siamo penso l'unico paese europeo dove l'asile in India sono gratuiti, c'è l'Università per tutti a Malta, c'è la sanità che è gratuita anche, l'educazione anche, fino all'Università. I maltesi che vanno all'Università di Malta hanno un'università che è gratis e sono pagati uno stipendio quando stanno studiando e non soltanto hanno l'alternanza con il lavoro anche. Allora, quando si laureano dall'Università, il 98% dei graduati maltesi trovano già il posto di lavoro perché avevano lavorato durante gli studi. Grazie.